qui non sono... non è la cava... che cava c'è? siamo già accanto in là di là dove? verso di nuovo da noi allora non è che andare di qua andiamo a vedere giù dove andiamo via dai e se andiamo di lì? vai che andiamo di là andiamo giù da qui dai qua c'è una freccia ma zucco di qua? si vado io davanti io vado piano non di sganciarlo? si no no sta qui secondo me sono piste che d'asciutto sono una favola eh bellissime e noi non siamo distanti eh noi non siamo distanti? eh noi non siamo distanti? eh quando anche facessimo quella che abbiamo fatto oggi eh perchè non è che senti dici devi fare due ore di strada no no ma io spiega tu c'è qualcosa di strada non non che non non Buon appetito! 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 Buon appetito!